Il ripetitore di stato wireless permette di visualizzare in wifi lo stato della centralina, se armata o disarmata, tramite l'accensione di un led e un cicalino che è disattivabile. La centrale deve disporre di un'uscita che vada a 12V quando è armata. Il ripetitore è composto da un trasmettitore che va collegato alla centrale e da uno o più ricevitori che si possono posizionare all'ingresso dell'abitazione, all'interno delle sirene, nella camera da letto, in salotto, ecc. Cioè in tutti quei punti dove vogliamo controllare che l'impianto sia inserito o disinserito.